Ma sì, intanto un numero da 260 posti di parcheggi regolamentati, passiamo a 436. Questo che cos'è? Non è il parcheggio del Borgo San Giuliano, è uno dei grandi parcheggi di attestamento verso il centro storico, cioè chi viene in città oggi troverà una possibilità di parcheggiare la macchina e vivere un ambito che si sta riqualificando. Cambiano le abitudini, noi abbiamo un'idea complessiva di città, ci sarà la possibilità di far sì che non tutte le macchine che arrivano da nord, da Ravenna, quindi strade del cimitero, passino sul ponte di Tiberio per andare dall'altra parte della città, ad esempio all'ospedale o a Bella Riva, ma ad esempio passando da Via Tonale possono andare sulla Statale 16 dove verranno completate tutte le rotonde. Abbiamo fatto quella di Covignano, di Grotta Rossa, arriverà quella di San Marino, arriverà quella tra l'Adriatica e Montescudo e Coriano, cioè una fluidificazione del traffico a monte perché se io vengo dalla via Emilia invece che passare dal ponte di Tiberio, dal castello, passo dall'Adriatica oppure per andare dall'altra parte della città dove c'è Largo Vannoni, Piazza Vannoni, passo per fila dritto, navigare in eccesso e arrivo a Miramare. Stiamo completando ad esempio la rotonda Tripoli-Roma, tra pochi giorni scompariranno i semafori e il tappo che si è creato per i cantieri sarà molto più scorrevole. Quindi come dire, si arriva al borgo, si passa al lato del centro storico, o dalla statale o da fila dritto e il centro storico va a riprendersi un pezzo della sua identità, il ponte di Tiberio. C'è un progetto complessivo, non c'è solo un parcheggio, abbiamo realizzato Piazza Vannoni, verranno fatti interventi straordinari, bellissimi, sull'asta del porto canale e intorno al ponte di Tiberio. Ci sarà una passerella galleggiante che permetterà di venire su con l'acciclabile dal porto canale Piazzale Boscovici e con una passerella a sbalzo si arriverà al ponte di Tiberio. Quindi non stiamo parlando solo di un parcheggio ma di un progetto complessivo di città. Questo è il secondo pezzo di un progetto complessivo, verrà riqualificata l'arena sull'acqua del ponte di Tiberio, ci sarà un intervento da 900.000 euro. Quel invaso dell'acqua invece che un posto lasciato a se stesso e un po' al degrado sarà una grande arena dove vivere arte, musica, dove fare il cinema di notte. Abbiamo ascoltato i cittadini che ci hanno suggerito queste proposte e ancora venendo da Piazzale Boscovici, dal porto canale, ci sarà una ciclabile che arriva nel ponte di Tiberio perché adesso dove c'è la stretta sui bastioni settentrionali, dove non si passa quando sono i turisti che vogliono vedere il ponte e rischiano di essere presi dalle macchine, ci sarà una passerella a sbalzo che consentirà ai pedoni e alle biciclette di venire su direttamente dal porto canale al ponte di Tiberio. E ancora ci sarà una passerella sull'acqua nel canale dell'antistante il ponte di Tiberio che collegherà la banchina con la piastetta Pirinella. Verrà rifatta anche la scaletta di piastetta Pirinella. Quindi questo è un pezzo di un progetto più ampio che riqualificherà l'intera area, il parco Marecchia, il ponte di Tiberio, Piazzale Vannoni, l'asta del porto canale. Si verrà su dal porto, si arriverà al museo civico con la bicicletta passando per piastetta Ducale oppure si verrà sempre in sicurezza con la bicicletta sul ponte di Tiberio camminando in quota sospesi sui bastioni. Questa è la Rimini che sta cambiando. Non siamo arrivati ma siamo in grande movimento per riqualificare e fare bella la nostra città.